eccoci qui amici benvenuti in questo nuovo video il video di oggi è un video reaction andiamo a vedere la performance del batterista con la b maiuscola probabilmente il miglior batterista di tutti i tempi o almeno per me è considerato il migliore di tutti i tempi e non solo da me non ci sarà nessun effetto sorpresa perché il nome del batterista è già nel video stiamo parlando di vinni con l'aiuta sempre lui ragazzi è sempre over the top non c'è niente da fare vinni è pur sempre vinni come dice dado berto nazi sigla e dopo andiamo a vedere il video di oggi come sempre ti ricordo di iscriverti al canale di attivare la campanella per non perderti gli aggiornamenti e i nuovi video oggi sono veramente veramente carico perché è un video che non guardo da tanti anni è un video famosissimo quello di cui parliamo oggi esegue uno dei suoi brani è un brano contenuto all'interno del suo album la canzone si chiama attack at the twenty liver pizza cioè attacco alla pizza da 20 libre è un nome abbastanza insolito ma la canzone da come mi ricordo è spaziale allacciati le cinture mettiti comodo che andiamo a vedere il mostro in azione ho già la pelle d'oca so che sembrano reazioni esagerate ragazzi ma per un batterista parlare di vinni con l'aiuta è veramente qualcosa di emozionante molto bene siamo su youtube basta scrivere vinni con l'aiuta pizza dopo di che eccolo qua ragazzi è il primo video pizza dopo di che eccolo pizza dopo di che the idea super pizza dopo di che non qu折a pizza dopo di che è un video Mamma mia! Mamma mia! Questo è l'immagino lui! Il guitarista! Un po' più pedale, con gli stivali! Eccolo! Quanto suona bene con i rullanti! La batteria suona! Guardate qui, l'ha cordata! Presentatelo! Mamma mia! Tutto con la traditional! Lamba mia! Non si fa davvero un tiro così? Cosa? Con dei flambe! Mamma mia! Mamma mia che batterista! Ma? Che cosa sta succedendo qua? Ma? Esce dal tempo! Ma è a tempo! Vedete che gioca con i sedicesimi perché scosta i rullanti dove dovrebbero esserci le casse! Vedetta così sembra facile in realtà! Vedetta cosìだ! Vedetta così da bella camicia madonna ragazzi che dire non ha parole guardare vini è sempre un'esperienza qualunque genere tu faccia che tu faccia dal jazz al metal alla trap non ho mai sentito suonare la trap ma probabilmente sarebbe comunque il più bravo anche lì e ragazzi non ho parole una performance del genere è oltre l'umana comprensione quindi proverò a rubare qualcosa a vini sarà molto 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 difficile perché devo un attimo capire cosa andare a rubare tra i chop e i groove forse qualcosa riuscirò a rubarlo spero che il video di oggi vi sia piaciuto fammi sapere nei commenti se conoscevi già questo video molto probabilmente sì perché è un video che ha tantissimi anni se invece non lo conoscevi spero di avertelo fatto conoscere come sempre ti ricordo di iscriverti al canale attivare la campanella e magari fammi sapere come hai conosciuto vini con l'aiuta qual è stata la prima volta che hai sentito vini bene ragazzi ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao